Gianluca, vedo tanta primavera in queste ciotole, in questi piatti e allora subito la parola a te. Cosa ci prepari oggi? Iniziamo a preparare l'ingrediente principale di questa ricetta che è l'impasto del semolino della nostra zuppa imperiale. Ah, zuppa imperiale. E già mi hai detto qualcosa. Tu lavori a Bologna, attualmente in Ristorante I Portici e quindi giochi in casa diciamo così per questa ricetta. Ho cercato il più possibile di portare un piatto, insomma, della tradizione bolognese. Si va ad aggiungere un uovo insieme a un po' di burro morbido. All'uovo andiamo ad aggiungere del parmigiano e successivamente del semolino. Quindi noi andiamo a grattare un po' di noce moscata. Abbiamo aggiunto il nostro parmigiano e poi dopodiché facciamo riposare l'impasto. Quindi con gli asparagi farei un brodo e poi verrà completata tutte queste verdure. E questo è molto importante per me perché io sto già pensando a che abbinamento poterci fare. In effetti vedo anche due gamberi. Mettiamo due gamberi, sì, per dare un valore aggiunto a tutte le verdure e a un gusto, insomma, ancora più dolce all'interno del piatto. Perfetto. Faccio riposare l'impasto. Noi ovviamente l'abbiamo preparato precedentemente e invece di tradizione metterlo in una placca e metterlo in forno, come ho detto prima, noi lo andiamo a mettere in questo stampino per avere la nostra forma desiderata, ossia una forma rotonda. Dopodiché lo mettiamo al microonde e questo è il risultato. Quindi sono delle sfere di semolino e parmigiano che noi nel momento in cui impiattiamo in servizio, quindi ci viene richiesta la comanda, le mettiamo a idratare in un'acqua di parmigiano che prepariamo precedentemente. Quindi adesso noi andiamo a saltare determinate verdure, le zucchine che abbiamo fatto a batonette, insieme alla barba di frati o agretti che andranno a comporre il nostro piatto e i gambi e degli asparagi. Quindi mettiamo prima le zucchine. Quindi dagli asparagi fai sia il brodo però poi alla fine li utilizzi anche entrambi. Diciamo che l'asparago lo peliamo, la parte intermezza ci facciamo il brodo che l'abbiamo preparato precedentemente, questo poi lo mettiamo a scaldare all'ultimo e poi tagliamo gli asparagi sia le punte che il gambo pelato che lo risaltiamo in padella insieme alle zucchine e degli agretti o barbe di frati come uno preferisce. Correggimi se sbaglio Gianluca perché io devo già iniziare a pensare all'abbinamento quindi tante verdure, tante verdure delicate appunto primaverili quindi ci vuole un vino altrettanto delicato perché non dobbiamo ovviamente coprire. Poi ci deve essere anche la parte aromatica, ci mancherebbe altro perché io ho già assaggiato e in effetti il suo sapore ce l'ha perché il parmigiano si sente ovviamente quindi anche la sua sapidità si sente benissimo. A questo punto Gianluca? A questo punto iniziamo a comporre il nostro il nostro piatto che sarà composto alla sua base con una crema di asparagi che abbiamo preparato precedentemente. Quindi dell'asparago utilizziamo sempre il tutto. Poi andiamo aggiungere i nostri le nostre zucchine, i nostri gambi di asparago, gli agretti? Gli agretti che andiamo a levare leggermente la parte il gambo diciamo, sennò rimane un po' troppo duro. Però li lasci così interi? Li lasciamo così interi, li arrotoliamo semplicemente perle di parmigiano che sono, vedi, sono completamente diverse, si sono idratate. E sono anche un po' insaporite. Si sono molto più insaporite. Perfetto. E andiamo ad aggiarle delicatamente nel nostro piatto. Benissimo. I ravanelli rimangono crudi? Sì, leggermente. Quindi diamo anche un po' di piccantezza, diamo un po' di sapore in più, un po' di freschezza. Un po' di croccantezza. Croccantezza giusto. Diciamo che sto completando il quadro anche per il mio abbinamento. Ok. Teniamo bene. Teniamo qui. Poi mettiamo della cipolla in carpione. Ma sai cos'è? Che il piatto è alla fine, nella sua eleganza e finezza, perché poi appunto è ricco di, come abbiamo detto, di sapori primaverili, però ha anche una complessità adatta dei diversi ingredienti. Quindi dobbiamo avere un vino, come dicevo prima, che non rischi di coprire nessun ingrediente, ma anziché che lo esalti. Gambero rosso lasciato crudo, giusto. Ho visto un pizzico di sale, olio extravergine e un po' di lime. Un po' di lime. Possiamo aggiungere, oltre la zesta, una piccola acidità. non esagerata. Ok. Benissimo. Lo adagiamo sempre nel nostro piatto. Andiamo ad aggiungere le punte degli asparagi, giusto. Le punte degli asparagi. Ancora mancavano. Andiamo ad aggiungere delle perle di parmigiano. Ottimo. Aggiungiamo anche delle polveri che prepariamo noi in cucina, sempre di piselli e asparago. Quindi sempre ortaggi di stagione che l'asparago è utilizzato. Assolutamente. Dopodiché andiamo ad aggiungere delle erbette e anche la tuille. Andiamo a fare di zucchine che abbiamo affettato precedentemente. E un po' di olio. E un po' di olio extravergine. Benissimo. Lo mettiamo all'ultimo che sono sicuramente più belle. E anche i fiori di zucchina. I fiori di zucchina. Che ovviamente deve essere più veloce. Ottimo. Poi andiamo ad aggiungere la nostra acqua di estratto di asparago. sull'ampollina. E questo poi viene servito in sala, come ho detto anche prima. E quindi poi andiamo ad aggiungerlo sul nostro brodo. E il piatto è pronto da mangiare. Ottimo Gianluca. La nostra zuppa è imperiale. Vado in cantina. Tu preparati perché assaggiamo il piatto. Faccio subito il secondo piatto. E assaggiamo anche insieme il vino. Volentieri. Ok, grazie mille. A tra poco. A tra poco. Gianluca. Ah, proprio perfetto. Tempi precisissimi. Hai completato il secondo piatto. Ecco la mia scelta. Guarda cosa ti ho portato. Villa Saletta Rosè. Rosato italiano. Ti accorgerai subito. Questa è una vera e propria anteprima. 2020. La bottiglia non è ancora uscita. Uscirà nei prossimi mesi. Ecco perché è un'etichetta provvisoria. Adesso ce l'assaggiamo. Vino semplice come fattura. Nel senso macerazione lieve. In modo da ottenere questo colore. Tutto a freddo. Solo acciaio. E quindi un vino puro. Un vino essenziale. Molto pulito. Molto molto pulito. Esattamente. Bene. Assaggiamoci prima il vino e poi vediamo col piatto. Salute. Salute. Ecco era proprio quello che volevo. Un vino di carattere. Un vino che riesce con la sua struttura ad andare. A essere continuo. A essere continuo. A una buona profondità. Deve riuscire ovviamente a sposarsi bene con il gusto, con la sapidità del parmigiano. Ma occhio al gambero rosso come abbiamo detto. Noi ci vogliamo arrivare non solo per il colore ma anche per la struttura del vino. Vado? A te l'assaggio. Cosa faccio? Prendo tutto con una bella cucchiaiata? Si può mangiare. Si si. In maniera completa. Ottimo dai. Cerco di prendere tutto eh. Adesso si è un po' abbastata la temperatura però. Beh. Tutte le verdure vengono una dopo l'altra. C'è ovviamente il tocco dell'asparago che è molto. Presente. Molto intenso. Poi alla fine è bellissimo il finale del parmigiano. Bellissimo il finale proprio della base. Sì. Della zuppa. E questo tocco del gambero. Questo tocco un po' marino, un po' salmastro. Dolce anche. Che viene fuori. E avvicina benissimo al vino Rosè. Beh molto bello. In effetti con un altro vino avremmo rischiato di coprire come abbiamo detto. Questo lo accompagna fino all'ultimo. E questo un po' secondo me è la caratteristica che devono avere i vini anche più semplici. Cioè avere una bella profondità come hai detto tu prima. Una bella lunghezza. Di gusto. Ma anche una grande bevibilità. Questi sono vini tanto tanto bevibili. Questo in effetti è appena uscito come si direbbe tra noi assaggiatori di vino un po' un bambino ancora. Ok. Perché è uno di quei rosati che è anche bevuto dopo qualche mese. Perché no magari tra un annetto sicuramente sa il fatto suo. Io sono molto contento per l'abbinamento. È andato benissimo. A questo punto verrò dati ad assaggiarlo. Vi aspetto tutti e ti aspetto ai Portici Hotel di Bologna. Benissimo. Grazie mille. Grazie. Brindisi finale. Opla.